E noi cominciamo ragazzi, stesso posto, il conte, vediamo cosa si sceglierà, scelto. Ma non c'è niente stasera. Non c'è niente. Ah c'è sempre la pasta, come ieri. Pasta? Pasta sì, dopo. Pasta, c'è sushi, patate. Ma stasera c'è meno o è impressione mia? Non c'è nulla. Ma forse ancora devono mettere. Ah ok, vabbè ragazzi a tra poco, quando mettono. La pasta si può fare, però vabbè attendiamo. Ragazzi guardate intanto l'antipasto del conte, mamma mia. Guardate il mio, è proprio nendi, anzi io ci metto un'altra cosa. Sono aggiunto queste patatine, vabbè, a tra poco. Dove le hai prese quelle patatine? Dove le hai prese tu, anche tu ce l'hai. Ma io non ne ho. Sì. Ah sono. Ah io queste? Siccome la pasta di ieri mi è piaciuta, è vera mangiabile, quindi l'ho fatta fare uguale, quindi formaggio, melanzane, ci ho fatto aggiungere anche le zucchine fritte. Vediamo com'è. Ah c'è buono. Sembrerà strano, ma è buono. Vediamo il conte come se l'è fatta. Il conte si è fatto riportare il pane, queste patate, tomate e maionese stasera c'erano. E senza la tina, ora arriva la sua pasta. Te la sei fatta fare uguale a me, eh? Così c'era e basta. No, la potevi fare in tanti modi, c'era anche il ragù, ma non mi fido prima che c'era tritato di cammello. Il cammello ha un sapore molto forte, però devo dire che sembra... Grazie, quelle polpette non erano malvagie. Vabbè ragazzi, il conte è soddisfatto del cammello e questa pasta è buonissima. Buonissima, complimenti al ristorante di qua dell'hotel. Ammo, spero che non ti prenderai più niente però, basta, dopo sta pasta. Secondo. Ancora? Antipasto, prima e secondo. No, vabbè, no ragazzi, io ho finito. Perché non ti piacciono le cose? Non mi piace niente a mia, tu sai, questi posti io proprio... Sì, ammo, ma che ti stai prendendo ancora? Ma ragazzi, vabbè, lui è un caso disperato. O forse sono io un caso disperato. Stasera vi do la buonanotte in anticipo con queste meraviglie. Mi metto davanti ai dolci, così ve li faccio vedere. Perché poi non ve li faccio vedere perché si prenderà il conte. Davanti a queste, diciamo, meraviglie per chi proprio... Vi do la buonanotte, a domani, scelta. Vi do la buonanotte.